non vedo ancora però sono qua sopra di noi eccomi qua sto scendendo da solo perché ola è stata portata via con l'elicottero che mi hanno detto di tornare giù a piedi voglio ringraziare ancora Luca Giuseppe tutti quanti che ci hanno aspettato hanno aspettato l'arrivo dell'elicottero grazie mille ancora e adesso scendo dove c'è stata la macchina e vado a cercare ola dove l'hanno portata è comunque stata una bellissima giornata mi spiace tanto che il mio amore sia stata male e hanno dovuto venire a prenderla con l'elicottero però d'altronde non si poteva fare diversamente non poteva più andare avanti magari non ho neanche segnalato il pezzo di l'alba del villato devi guardare se c'è il lato eccoci qua tutti pronti a partire pronti via si parte siamo partiti stiamo percorrendo per adesso un pezzo di strada asfaltata per arrivare all'imbocco del sentiero eccoci arrivati all'imbocco del sentiero su da questa parte ecco qua il gruppone proseguiamo il nostro sentiero verso il rifugio per nasca ecco la madonnina andiamo avanti di qua guardate che bello siamo arrivati al gisole dello Cusac eccoci qua al primo break una piccola rifocillata ecco qua Domenico e Luciana nella montagna del cuore ciao a tutti piano piano arrivano gli altri Luca Montanaro Camuno ecco Massimo Monica Montanaro Camuno e qua i ragazzi di Up and Down Simonetta Sofia alla Camuno Giuseppe guardate che spettacolo guardate che spettacolo attendo all'interno Sì, guarda il sorridente dopo aver mangiato, si sta meglio adesso, è stata dura la salita, è un po' duretta per me, va bene dai, piano piano, è un po' per tutti, non solo per tutti, un po' per tutti, allora eccoci qua, Luca e Monica, Montanaro Camuno e il suo canale, Poi qua abbiamo Domenico Eliciana, il vostro canale, Montagna del Cuore, seguiteli mi raccomando, seguiteci tutti, qua abbiamo Massimo Dalseno e sua moglie Margherita, il canale Massimo Dalseno Outdoor, parla un po' di escursioni, trekking giornaliero, vari droni e altro insomma, ecco, e qua abbiamo Giuseppe e la sua famiglia, direttamente dal Friuli, ciao Giuseppe, Up Down Montagna, noi prettamente Friuli, Capatina in Veneto, Alto Adige, delle volte in Slovenia, dal trekking, alla tenda, al pivacco, alle ferrate e piccole rafficate entro il terzo grado, bellissimo, mi raccomando, seguiteci tutti, e buona visione, e viva il tetto, ciao bellissima, ma come sei bella, adesso saliamo un po' dritto per dritto su questi prati, che meraviglia, guardate che posto fantastico, spettacolano, siamo arrivati a un guadio, vediamo se riusciamo a passare adesso, in qualche modo qua, ecco, tutto il gruppo, che si inerpica su per il tendio. Come vedete, adesso il sentiero sale ripidamente al zigzag, e dovremmo arrivare là in cima, e scollinare, per scendere poi al bivacco. Oggi per noi è una magnifica giornata, anche se non splende il sole, perché abbiamo conosciuto delle persone veramente speciali, ci siamo conosciuti su YouTube, e grazie a Luca, che in pochi giorni è riuscito a organizzare questa escursione, ci siamo ritrovati tutti qui in Val Tartano, siamo felicissimi di essere qua con loro, è un bellissimo gruppo, e stiamo facendo questa magnifica escursione. Abbiamo fatto un'altra piccola sosta, e adesso riportiamo, dobbiamo arrivare lassù, e poi scendiamo verso il bivacco. Siamo tutti felici di proseguire. Continuiamo a salire da questa parte. Eccomi qua. Sto scendendo da solo, perché Ola è stata portata via con l'elicottero, che a me hanno detto di tornare giù a piedi. Voglio ringraziare ancora Luca, Giuseppe, tutti quanti che ci hanno aspettato, hanno aspettato l'arrivo dell'elicottero. Grazie mille ancora. E adesso scendo, dove ho lasciato la macchina, e vado a cercare Ola dove l'hanno portata. E' comunque stata una bellissima giornata, mi spiace tanto che il mio amore sia stata male, e hanno dovuto venire a prenderla con l'elicottero, però d'altronde non si poteva fare diversamente, non poteva più andare avanti. E' arrivata l'ora della mungitura, sono tutti qua per essere munte. Dal balcone dell'albergo Mirarago a campo, in Val di Tartano, rassicuro tutti, Ola sta bene, e adesso aspettiamo i nostri amici, che scendono dal bivacco, per ritrovarci a mangiare tutti insieme. Ma ciao! Come sei bellino! Sei bellissimo! Eccoli che arrivano! Ciao ragazzi! Ciao! Com'è stata la discesa? Bene, bene, vai! Non abbiamo passato! Bene! Bravi, bravi! Ciao, Ola! Allora, come stai? Bene! Ecco che la tavolata si sta componendo, le birrette sono arrivate, ragazzi, buon appetito! Buon appetito! Ecco qua gli chat, piatto tipico valtellinese, ragazzi, uno spettacolo, polenta taragna con funghi e salamella, buonissima! Buon appetito! Faccio il video io, direttamente! Siamo a Castagna! Eccolo qua, il punto nel cielo, fantastico! Cattolo qua, buon appetito! Grazie a tutti.